Ciao a tutti ragazzi, io sono Leonardo Bianchi e qui sono in compagnia con Freezink Ciao ragazzi Allora, ora stiamo facendo questo vlog perché così ci andava di farlo mentre andiamo a fare lezione in conservatorio Cosa ne dici Freezink? Cosa faremo nella nostra serie? Ma io ragazzi sto già iniziando a registrare un po' gli Hunger Games e diciamo che ho scoperto un trucchetto per togliere i... Non farlo laggare No, per diminuire il tempo grazie a Camtasia Studio 7 che poi farà un video come scaricare e poi un video come alleggerire i video e spero che i miei programmi vi piacciono A breve inizierò la serie con Leonardo Bianchi solo che io e Leonardo Bianchi ormai in questo tempo ci stiamo trovando pochi quindi non riusciamo a giocare insieme Perché fra poco finisce la scuola e non ci vedremo Sì Dovremmo andare in vacanza Quindi non so se la serie con Leonardo Bianchi continuerà però se voi volete ditemelo che io sono aperto Io sto caricando un altro video di Minecraft dove sto dicendo da solo un aggiornamento sulle serie di Minecraft e ripeto in quest'altro video se volete partecipare non esitate a chiederlo Potete entrare normalmente Non so se ve ne siete accorti ragazzi ma Leonardo Bianchi ha appena messo il suo primo tutorial è stato molto bravo solo che la grafica la grafica non si vede tanto bene perché non ho impostato la ho messo VGA nella videocamera non ho messo 720p quindi non si vede tanto bene il prossimo tutorial che farò sarà diciamo il tutorial dell'impalmaggio invisibile che è quello lì diciamo molto bello Io ragazzi volevo provare a fare dei tutorial o farvi vedere come delle magie solo che sono una schiappa perciò con i gameplay come Minecraft Ah ragazzi a breve inizierò anche una serie da sola a Black Ops 2 per i PC e io per la Playstation 3 quando verrà anche Freezink a casa mia giocheremo in due e faremo una serie quando ragazzi dovete aiutarmi a capire come si registra dalla Play perché io non ci capisco tanto capisco solo di computer comunque ora stiamo andando questo è la prima parte la seconda parte la potete vedere nel mio canale perché stiamo registrando dal mio telefono la seconda parte la vedrete dal telefono di Freezink questo è tutto diciamo da Leonardo Bianchi e Freezink prima parte di vlog in strada ciao a tutti ragazzi ciao a tutti